Vi auguro una buona giornata con questo messaggio, Terapia degli Angeli. Arcangelo Raffaele, affida le tue paure e le tue preoccupazioni a noi angeli e consentici di liberarti dai pesi che ti affliggono. Hai chiesto a noi angeli di aiutarti in questa situazione. Possiamo farlo solo se ci dai consenso. Ora chiudi gli occhi e fai un profondo respiro purificatore. Poi invoca mentalmente i tuoi angeli custodi e noi arcangeli per chiederci aiuto. Non precisare come vuoi essere aiutato. Dicci solo in quale situazione ti serve il nostro sostegno. Soprattutto rimani aperto a ricevere il nostro aiuto, nei modi in cui ti arriva, ovvero sotto forma di una sensazione improvvisa, di un'idea intuitiva o di un intervento diretto. Se ricevi più volte le stesse indicazioni, è importante che tu le segua. Collabora con l'Arcangelo Raffaele. Chiedi a Raffaele di circondare con la sua aura verde, smeraldo, tutto ciò che ha bisogno di guarire. I cristalli allineati con l'energia guaritrice dell'Arcangelo Raffaele sono lo smeraldo e la malachite. Questo è il messaggio per augurarvi una buona giornata.